Questo programma è offerto dal quotidiano telematico www.quattrominuti.it. Abbonati online gratuitamente. Noi cittadini, rubrica di servizio, abbiamo due personaggi illustri. Uno è presidente, l'altro è professore. Prima di tutto presentiamo Tiziano Motti, presidente dell'Europa dei diritti, che a sua volta è una associazione di servizio. E devo dire che è una delle poche, credo, unica nel suo genere. Poi esistono tante altre associazioni che peraltro non racchiudono quello che racchiude questa associazione dei diritti. Motti, vuol dare una notizia prima che presento l'altro ospite? No, presentiamo l'ospite così poi commentiamo insieme la notizia. Così ci seguono pure di più, lo facciamo pure per lo share. Lo facciamo pure per lo share. Ci abbiamo con noi il professor Vittorio Sgarbi, un applauso al di là del video, il quale oggi ci darà delle cose molto molto interessanti, quindi stateci a sentire. Come sempre. La notizia, oggi abbiamo parlato di Europa dei diritti, nell'ambito di Europa dei diritti, delle nostre attività, insomma di rapporto con i cittadini, sa che abbiamo sviluppato questo progetto che si chiama Europa delle donne, per essere vicini alle esigenze delle donne intese come parte debole ancora della nostra società. E' convinto solo questo? Ho molte convinzioni che la donna sia in favore delle donne, che non sono mai state, se non per ragioni economiche, parte debole, ma anche quando lo erano per ragioni economiche di lavoro non erano deboli. E ho trovato veramente sorprendente la reazione dei sindacati di Epifani e di Bonanni rispetto all'età pensionabile delle donne, che io pensavo fosse già 65 anni, invece sembra che sia un'offesa, dico ma la donna di 65 anni è giovane, è forte e che sia in pensione è contro natura, quindi 65 anni è un'età appena appena giusta, non 57, 58. Ma sì, no, ma c'è anche un discorso, che adesso alcune donne, come alcuni uomini, trovano lavoro a 40 anni, quindi alla fine... Bravo, anche su questo, sì. No, ma c'è da dire che non solo è molto più avanzata l'età in cui uno si ritiene vecchio, quando è che uno dice, io ho un'età in cui 30 anni fa sarei stato vecchio, tu sei vecchio, non credo, saresti stato vecchio 10 anni fa, adesso non lo sei più. No, vanno ancora in motocicletta. Quindi uno deve sancire la sua vecchiaia, quando ha sanciuto la sua vecchiaia, sempre più avanti potrà andare in pensione. Perché c'è questo sinonimo, bene, quindi è una pensione vecchiaia. No, è una cosa su questo, rispetto alla pensione, che è un tema importante anche per l'Europa dei cittadini, o per i cittadini garantiti, i diritti devono essere garantiti, occorre dire che per un lavoro particolarmente pesante, che abbia quindi logorato il fisico, ci vuole una misura pensionistica più rapida. Ma per un lavoro, come tanti che si fanno, l'insegnante, l'insegnante deve andare in pensione a 58 anni, a 65 non è più grave di insegnare. A 70. Una pianista, quindi non capisco. Poi il professore universitario mi fa a 75. Perché quei lavori in cui si pensa che sia un privilegio continuare a farlo, si chiede di poter andare avanti, magistrati, eccetera. Certo, sono lavori di fatica, su cui si può capire che ci possa essere, però stabilire che una donna di 65 anni è troppo vecchia per essere già andata in pensione, dovrebbe andarci a 57, non so, non si capisce. Però scusi, scappi, scappi, io adesso parto da lei, perché noi abbiamo, scusa, già affrontato, in questo momento lui ha risposto alla politica. Finire sulle pensioni? No, lui, no, lui, io andrei velocemente sul tema delle pensioni, nel senso che, anzi faccio un discorso generale, dico come la penso io. Io credo che in realtà tutti si abbia ragione, nel senso che la nostra posizione ideologica rispetto al problema che si pone in un determinato momento nasce dal nostro approccio culturale, nell'infanzia, la famiglia, la cultura personale. Quindi di fatto, anche quando si è in contraposizione, in realtà si è d'accordo, nel senso che dipende sempre dal punto di vista da cui si guarda, l'elemento di cui si discute. Lei ha detto, la donna in realtà, sono convinto che la donna non sia la parte debole. Da un certo punto di vista io sono perfettamente d'accordo, nel senso che, e l'ho già detto, ritengo che la donna sia in realtà spesso più intelligente dell'uomo, riesca ad esprimersi in modo migliore anche nel lavoro. Si è più determinata. È vero, è vero che dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna, no? Si dice poi in realtà in casa, certo, perfetto, però se guardiamo per esempio la potenza fisica, l'aspetto fisico, ad essere picchiata in casa è quasi sempre la donna, non è mai l'uomo. E la donna perché... Si può anche non picchiare qualche volta. Si può anche non picchiare, però purtroppo, tante donne subiscono una violenza in casa, che poi tra l'altro non viene neanche denunciata, perché poi è difficile per una donna trovare il coraggio di denunciarla. La donna non conosce, perché si è ignorante, tutti sui sistemi di difesa che abbiamo non denuncia e quindi continua a rimanere succube del marito. In questo caso, per esempio, la donna, a mio avviso, è la parte debole. La parte debole, ma non perché l'uomo la tiene segregata. Presidente, prima dello spazio pubblicitario, accenni al tema reale, quello del danno esistenziale. Sì, beh, qui in realtà ci sarebbe da sorridere. Lo accenni e poi dopo lo ripetiamo. Da una cosa molto importante a un tema che può essere discusso invece col sorriso sulle labbra. Perché? Perché da un certo punto di vista è vero che... Ma ne avevamo parlato il danno esistenziale? No. L'avevo giudato. Ah, quindi lei mi imbocca l'argomento. Bene. Bene, bravo. Le donne oggi, ma non solo le donne, anche gli uomini, in un tema di parità totale, hanno la possibilità, nel momento in cui si divorzi, perché uno dei due ha tradito l'altro, e se questo tradimento ha comportato, non è stato solo l'elemento singolo a sé, ma ha comportato anche il fatto che ci sia stato poi, sia stato trascurato il rapporto, quindi la moglie tradita sia poi stata trascurata dal marito, può chiedere, potrà chiedere anche il danno esistenziale. Ne parliamo dopo la pubblicità. L'associazione Senza Fine di Lucro, Europa dei Diritti, promuove la collana Noi Cittadini, diffusa gratuitamente a 4 milioni di famiglie in 500 comuni italiani. Sul sito internet www.europadeidritti.it puoi scaricare gratuitamente i libri e le dispense dedicate alla difesa dei tuoi diritti, puoi inviare le tue domande a cui risponderà gratuitamente un team di 140 studi legali, puoi segnalare ingiustizie subite nel tuo comune e ottenere visibilità. Europa dei Diritti, da voce ai cittadini. Ogni giorno raggiunge 800.000 iscritti al servizio di news tramite posta elettronica. Iscriviti gratuitamente tramite il sito internet www.europadeidritti.it e seguici anche sul sito www.motti.eu